Il 19 marzo, giorno del suo onomastico, Pino Daniele avrebbe compiuto 61 anni. Per l'occasione Napoli gli ha reso omaggio con un concerto gratuito al Palapartenope. Il teatro della musica di fuorigrotta, Gremito, ha accolto i tanti artisti, vecchi amici di Pino e giovani talenti che lo hanno voluto ricordare. Gli oltre 3.000 biglietti distribuiti gratuitamente sul sito del comune di Napoli sono andati infatti esauriti in 11 minuti. Una strada magica, piena di emozioni, di ricordi, di artisti, di amore per Pino che rappresenta il corpo della nostra città. Devo dire che in questo periodo che sembra così vicino e così lontano allo stesso tempo Napoli ha dedicato tantissimi momenti e tantissime giornate a Pino. Oggi è una speciale perché avrebbe fatto 61 anni, il suono mastico, la festa del papà e Napoli attraverso la musica arriva fino in cielo. Ne ricordo in perituro di Pino. Non casuale la scelta del Palapartenope. È lì infatti che Pino Daniele ha tenuto negli ultimi anni i suoi concerti napoletani insieme agli amici storici e dove ha sempre dimostrato quanto fosse ancora legato alla sua Napoli. Il Sto vicino a te, titolo di una delle sue canzoni più amate e cantate dai fan, è stato il nome dell'evento, destinato nelle intenzioni degli organizzatori a diventare un appuntamento fisso ogni anno. Sul palco, insieme al fratello Nello Daniele, vero motore e anima della serata, si sono alternati Enzo Avitabile, Joe Barbieri, Mel Collins, Tony Esposito, Claudia Magret, I Neri per caso, Valentina Stella e tanti altri. Not B Telefon Notมini, Matte, te, titolo di Car continuum.. Non coincido, pra senso diona, è stata era una sottota, non quartiera di precisione noi, è stata una honora di umano, è stata una honora diüs KE起來 un giro. Non si ragazzo, ahi come ancora un luogo di nasi che podcasts, hanno un luogo di ipadabiliate. Noitocchi di Qilipara Genova sono la campirona.